Salone di Francoforte 2013, Honda presenta la versione station wagon della nuova Civic che si chiama Tourer. E che cosa c'è più importante di una station wagon se non la capacità del bagagliaio? Lo vedete qui, 624 litri. Ma che cosa significa poi in realtà esprimere in litri la volumetria del vano di carico? Benissimo, lo vediamo subito. Per riempire il bagagliaio della nuova Civic Station ci vorrebbero 1248 bottigliette da mezzo litro.